Ho fatto il corso di web design, di grafica digitale, il corso big data, di tecnico informatico, il corso di Excel. Ho partecipato a questo corso per diventare segretaria, quello di Microsoft Office, di interior design, montaggio video e animazione, di visual merchandising. Mi è piaciuto il corso perché l'insegnante l'ho trovato preparato, mi sono trovata molto bene. Il corso ha rispettato pienamente le mie aspettative. Credo che l'insegnante sia veramente valido. Raggiungi un livello che magari non pensavi. Il corso mi è piaciuto molto. Devo dire che era una scuola di insegno, mi sono trovato molto bene. Consiglierei questo corso. Consiglierei insegno a chiunque abbia bisogno di qualsiasi tipo di formazione. Personalmente lo consiglierei. Il corso ha rispecchiato assolutamente le mie aspettative, anzi forse è andato anche oltre. Sono molto soddisfatto sia del professore che delle lezioni. Sono contentissima di com'è andata. Secondo le mie aspettative ho trovato qualcosina in più. È stato anche un bel clima di studio. Lo consiglierei perché è uno di tanti modi per essere aggiornati. Consiglierei questo corso a tutti, infatti l'ho consigliato alle mie due migliori amiche. Sono contenta, più che contenta. Mi è piaciuto molto. Il corso mi è piaciuto, interessante. Insegno ho trovato veramente una scuola che mi ha dato tutte le risposte alle mie esigenze. Grazie a questo corso io ho trovato anche lavoro. Il corso è stato molto interessante e ha rispettato tutte le aspettative. Lo consiglio sicuramente. Sono molto contento, ho raggiunto l'obiettivo, tant'è che continuo ancora adesso a frequentare insegno. Consiglierei il corso, assolutissimamente sì. Lo consiglio perché è molto utile per trovare il lavoro. Se uno che fa fatica come me ce l'ha fatta, ce la potete fare anche voi. Sono molto contenta del corso che ho fatto. Il corso l'ho trovato molto utile, molto bello e molto interessante. È un corso bello, molto bello. Sono contenta di com'è andata il corso. Mi è piaciuto molto partecipare al corso. Consiglierei anche perché hai modo di interagire con l'insegnante. Ho trovato, devo dire, un gran bell'ambiente. Mi sono trovata molto bene. Sono molto contenta di com'è andato il corso perché penso mi abbia fornito delle basi solide. Ne sanno veramente a parchi. Un saluto ai ragazzi di insegno. Grazie a tutti. Ciao. Grazie ai docenti per la pazienza. Ciao. Vi consiglio di provarlo. Ciao. Grazie. Ciao. Fatti questo corso.